Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Proseguo a portare sul canale una cosa che io fin da piccolo adoravo veramente, mi facevano impazzire ovvero il libro game e questa volta voglio presentarvi Vesta Shutdown che ora poi vi vado a descrivere e ringrazio veramente di cuore l'Aristea per avermi fornito questa copia per la recensione più altri due romanzi, vedete dentro c'è addirittura la scheda mia del personaggio che tra l'altro mi fa anche la segnalibro, che sono Il Marchio e il continuo La Megera La Megera, la Megera insomma poi ogni dialetto ha il suo accento, comunque La Megera che è il secondo libro continuativo di questo e grazie veramente di cuore ragazzi è un onore per me poter collaborare con l'Aristea, oggi vi parlo in particolare di questo che è l'ultimo libro game a cura di Gabriele Simionato ed è quello che se non erro comunque tanto in descrizione trovate tutti quanti i link per acquistarli per il loro sito hanno presentato all'ultimo Luca Comics and Games del 2019 ed ha riscosso un buon successo, un grande successo perché cos'è il bello dei libri game? Ora, i libri game si dividono in due tipi di pubblico quelli, i ragazzi più giovani sicuramente dal 2000 a oggi che li vanno a conoscere piano piano magari con recensioni, video e quant'altro e poi c'è la mia stir per quelli che vengono magari dagli anni 80 ma anche perché no, dagli anni 90 che sono cresciuti con i guerrieri della strada i libri horror tipo i libri game horror che mi pare ne uscirono solo due poi si fermarono nella collana che c'era il primo nel Conte Dracula e il secondo Frankenstein o qualcosa del genere e poi il più famoso di tutti di Joe Dever, ovviamente il capolavoro Lupo Solitario noi che ci siamo cresciuti, ritrovarci fra le mani un gioco del genere è la fine del mondo ma visto che sta iniziando ad andare anche fra tanti ragazzi perché il board game sta prendendo sempre più piede in Italia e comunque anche all'estero grazie a siti come Board Game Geek, la Tanna dei Goblin e tante altre associazioni che lo stanno promuovendo alla grande nella maniera assolutamente più giusta e che ringrazio così perlomeno è bene che la gente conosca queste cose che sono spettacolari però come diceva, noi che si vede dai tempi di Lupo Solitario ci va a suscitare qualcosa veramente di sepolto negli amori di un tempo, dell'infanzia, almeno parlo per me personalmente perché Lupo Solitario, qual era la cosa bella? e io l'ho giocato fino agli anni 80, primi del 90, perché era così bello Lupo Solitario? alla fine era scritto spettacolarmente, sì, sembravano quasi un piccoli brividi era narrato bene, per l'amor di Dio, ci mancherebbe, li do 10 su 10 però non era quella scrittura alla Stephen King o comunque scritture molto più articolate però perché era bello? perché questi qua, che ora poi soprattutto, questo è uno sapphire spaziale e questi sono fantasy ora ve li faccio vedere ma poi tratterò meglio un'altra recensione giocavi tutto d'immaginazione perché quelli erano i primi tempi di Dungeons & Dragons erano i primi tempi appunto che si andava a giocare ad esempio quando giocavo io c'era nemmeno l'Advanced di Dungeons & Dragons c'era la vecchia scatola rossa e non c'erano videogiochi quindi anche a livello di videogiochi GDR come poi più avanti è venuto Baldur's Gate e altre cose non c'era nulla quindi l'unico modo che te avevi di vivere un'avventura in prima persona era o tramite Dungeons & Dragons o comunque giochi di ruolo o se no appunto erano i libri game e i libri game erano bello perché ti davano era, come ovviamente avendo scritto in questi libri si legge come un libro, si gioca come un gioco perché l'ho chiamato i libri game? perché c'hanno varie strade alcuni c'avevano più finali ma la maggior parte dei libri game c'hanno un finale soltanto però le strade per arrivare c'erano molteplici e quindi avevano anche una grande rigiocabilità ed era bello perché magari entro nella caverna salgo per le montagne oppure vado per il boschetto oppure aggiro il laghetto o noleggio una barca per passarci nel mezzo magari passandoci nel mezzo dove combattere un mostro marino aggirandole invece boh trovavi dei briganti o boh ti perdevi in un boschetto e la cosa bella era quella perché ti dava la possibilità di vivere un'avventura dove te eri il protagonista infatti tassativamente i libri game sono narrati in prima persona e ci si riferisce a te proprio che stai leggendo vedi arrivare prendi la spada e attacchi che poi sia al passato o al presente comunque si rivolgono sempre a te personalmente ed è bellissimo perché ti calavi nella parte di questo personaggio nel suo caso appunto lupo solitario il combattente, il maestro Ramas e dove andare avanti in questa avventura portarla avanti e lo sentivi tuo perché magari poi quando andavi a casa di un amico le dicevi te quell'avventura lì come l'hai fatta? ma io ho ammazzato tutti gli orchetti come gli orchetti? un l'ho nemmeno trovati nel libro sì sono verso la metà no, io ho combattuto un gruppo di briganti umani che mi hanno rapito su un carretto e mi hanno portato dentro una prigione a combattere un'arena quindi anche proprio come andava avanti era bello poi dopo confrontarsi con gli altri amici per vedere come andava avanti la storia e in questo caso è diversa Shutdown che è l'ultimo di Aristea pubblicato per il Luca Comics del 2019 è di ambientazione sci-fi ed è ambientato dove voi vestirete i panni di un beta tenente il cui nome è Nicholas Chavalan o Nicholas Chavalan comunque sempre perdonate per le pronunce e siete un beta tenente in questa stazione su Vesta praticamente che rimane in una fascia di asteroidi che dovrebbe essere delimitata fra il pianeta Giove e il pianeta Marte più o meno nel mezzo ragazzi per farvela più breve ancora possibile The Expanse che tra l'altro c'ho qui dietro bellissimo l'ambientazione più o meno è la stessa la fascia di asteroidi è presente The Belt la fascia che vediamo in The Expanse e rimane appunto fra metà strada fra se voi tracciate una rotta fra il pianeta Giove il super pianeta e il pianeta Marte diciamo che più o meno è a metà distanza infatti si rivedono anche asteroidi o comunque satelliti molto famosi come Ganymede ad esempio anche qui su Ganymede c'è stato ci sono degli eroi che vengono ricordati c'è stata una specie di battaglia o comunque qualcosa del genere poi c'è Cerere che sarebbe Ceres dove lì ci vediamo i cinturiani ma qui tutta un'altra cosa infatti la prima cosa sinceramente quando sono andato a leggere Vesta Shutdown subito mi è piaciuto da morire perché non c'entra niente con The Expanse nulla anche la tecnologia bene o male è quella ma l'ambientazione non c'entra niente qui sono tutti umani non ci sono i cinturiani e cose del genere però tantomeno l'OPA però l'ambientazione più o meno mi ha suscitato quei ricordi lì mettiamola così mi ha rimandato un po' anche alla tecnologia perché anche questo è bello perché siamo nel futuro però la tecnologia è decisamente credibile ora ovvio lasciamo stare magari vari campi di energia vari motori subluce cose strane che ci possano essere anche perché con la tecnologia di oggi non puoi farti 8 mesi se becchi la finestra di lancio oppure fartene 12 se non 16 per andare a Marte qui ovviamente i viaggi sono anche più brevi però comunque c'è la tecnologia in questa ambientazione non soltanto per fare questi viaggi lunghi ma anche soprattutto con navette di piccole e medie dimensioni riuscire a fare un allunaggio comunque riuscire di atterrare su un asteroide e cose del genere ed è bello questo io lo chiamo romanzo che poi alla fine sono appunto libri game libri gioco perché voi vestirete i panni di questo beta tenente che lui è una specie di guida o comunque un supervisore nella stazione di vesta è qualcuno che dirige lavori ed è la figura di spicco incaricata di appunto di dirigere lavori là sopra che poi come in ogni buona ambientazione di questo tipo c'è lui che comanda c'è lui che è il supervisore generale però poi c'è l'ufficiale scientifico c'è magari l'addetta al cargo alla logistica quindi ognuno ha il suo ruolo però lui è quello che deve supervisionare tutto ed è praticamente bello che ti ci fa calare molto nella parte in questo personaggio lì già al dovere però che ogni tanto anche lui non si fa scappare un magari pensandolo che palle mamma mia non ne posso più è un lavoro pesante non vedo l'ora di tornare sulla terra però diciamo che la gente lo rispetta ed è un personaggio lì già al dovere e la storia è bella perché parte come uno sci-fi molto 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 tecnico e scientifico quindi con basi solide e tutto quanto all'inizio vi verranno dati tanti problemi addirittura vi farà leggere il vostro specie di data pad e vi darà diverse mail nel rosso che sono arrivate e fra questi tanti problemi voi dovrete scegliere quali ovviamente andare a risolvere o comunque anche risolverli tutti ma dando priorità in ordine priorità ed è bello perché inizialmente parte lento ma giustamente come partiva no forse il lupo solitario no perché partiva subito con un massacro che ti devi scappare comunque diciamo che parte lento e poi piano piano va avanti nella storia e ovviamente si arricchisce di contenuti si arricchisce soprattutto di colpi di scena e anche i personaggi che ci sono all'interno sono narrati benissimo cioè si riesce veramente dopo non mi ricordo quanti capitoli sono comunque già dopo il primo capitolo avete già capito chi è il vostro secondo che vi segue in giro per le missioni chi è l'ufficiale scientifico chi è addirittura chi siete voi come beta tenente quindi è fatto veramente bene ed è narrato da paura e poi mi piace perché ciascun paragrafo è narrato bene ed è a volte sono anche paragrafi di due o tre pagine è raro di solito sono tipo 10-15 righe una paginetta però nelle parti più importanti è narrato bene però si sofferma con dovizia nei dettagli e quella è la cosa bella non è che magari dice arrivi in un villaggio ora parlando di di una nostra medievale arrivi in un villaggio c'è un cancello c'è una collina in cima alla collina c'è il castello del re però magari anche metterci un più o più di dettagli che ne so al lato la bottega del maniscalco magari non lo so il portone c'erano le figi e degli arazzi che scendevano a ricordare la raldica del re cioè sono cose piccoline però che ti aiutano a calarti nella meditazione e qui veramente non lascia scappare niente infatti ti sembra ad esserci cioè ti scicca ta furta nel mezzo ed è molto bello poi dovete creare il personaggio dovete all'inizio creare il personaggio mettendoli delle caratteristiche che le caratteristiche principali sono tre e dovete comunque avete la scheda del personaggio e creerete questo personaggio lui vi darà delle caratteristiche comunque base e poi dopo voi dovrete andare ad aggiungerci dei punti aggiungendo questi punti il gioco è molto semplice ci dice quando il gioco ti chiede di fare una prova o tirate due dadi da sei o se no semplicemente invece che tirare due dadi da sei aprite direttamente ci sono i numeri in cima alle pagine in alto a destra aprite così la pagina a casa e guardate i due dadi che ci sono segnati se avete fatto uguale o meno della vostra caratteristica avete successo se no avete sbagliato che ne so una prova di pilotare una nave potrebbe andare su scienza quindi se la fai bene vai a pagina 10 se la fai male vai a pagina 150 potrebbe succedere qualcosa e potreste anche morire poi ovviamente l'equipaggiamento con tutta la roba che trovi equipaggiamenti note che il gioco ti dice segna queste note perché sono cose importanti quindi nozioni informazioni che il vostro personaggio ha preso le segnate sulla scheda che ne so ho parlato con quel tizio oppure semplicemente mi ricordo di aver visto qualcosa in particolare e quando arriverete al paragrafo più avanti vi dirà ce l'avete segnato sulla scheda ho visto quella cosa particolare voi andate a vedere si ce l'ho ok allora procedi a pagina A se no procedi a pagina B o se fallisci un tiro vai a pagina C quindi le strade sono tantissime ed è bello perché ci sono fasi d'azione fasi di dialogo che è importantissimo anche dialogare con i personaggi fase di gestione logistica dell'equipaggiamento e quello che abbiamo intorno e puzzle sui puzzle vorrei dire una cosa in particolare che sono diversi non sono tantissimi però diciamo anche perché il riempillo di puzzle dopo un po' così direi in termini che palle cioè vogliamo una cosa un po' più d'azione un po' più strana combattimenti magari sparatorie o anche esplorazione spaziale siamo nello spazio gli enigmi ci sono però a volte sono un pochino troppo intricati ora sicuramente io posso magari essere un tipo di persona meno attenta ai dettagli però anche mia moglie che l'ha giocato si è trovata bloccata nei miei stessi punti c'è un punto in particolare che non vi spallero nulla zero perché veramente ve lo rovino per quanto sia rigiocabile che arrivate in un punto dove dovete girare per varie stanze e poi ovviamente girando per queste stanze dovrete fare delle cose per riattivare dei sistemi e cose varie ci siamo persi io ci sono stato un'ora per venire via ragazzi un'ora a girare la pagina addirittura dopo un po' non ce la facevo più mi iniziavo a segnare le pagine che avevo visitato su un foglio cioè pagina 12 ci sono stato paragrafo 5 ci sono stato paragrafo 350 non ne venivo più fuori era troppo intricato infatti io e anche mia moglie ci si è bloccata c'è stata anche lei un'oretta un'oretta e mezzo cioè un casino e poi di un enigma che c'era nel mezzo secondo me forse è un piccolo errore ora poi magari non lo so chiederò anche a allora appunto all'aristea o al ragazzo che l'ha fatto il gioco ti dice quando vedi delle parole scritte in grassetto o sottolineate sono note che ti devi segnare sulla scheda quindi quando vedi una cosa importante ti ricordi di aver visto quel dipinto o hai idea di come pilotare questa nave perché hai fatto non lo so uno studio particolare il gioco ti dirà ok segnatelo e come fa a dirtelo vedi la parola scritta sottolineata e ti sei già che sulla scheda lo devi mettere c'è un indovinello verso più di metà tre quarti della storia che non te lo dice cioè ti dice cosa devi fare però il problema è che te lo dice magari 5-10 paragrafi prima che te te lo dimenti perché poi ce n'è da pensarne i 10.000 e non sono sottolineate quindi te non te le sei segnate sulla scheda e quando arrivi lì ti fa dammi la combinazione e te fai cosa faccio torna indietro e come fa a tornare indietro cioè dopo hai visto pagina 5 pagina 20 pagina 350 pagina 115 pagina 270 come fai a ricordarti qual era la pagina di partenza cioè non ci sa la memoria fotografica e lì ci siamo bloccati ed è toccato tornare meno male mi ero segnato sul foglietto la pagina dove ero prima di iniziare a leggere mi è toccato tornare indietro per risegnarmi ma il gioco non me l'ha detto di segnarle è quello il fatto ora ok che io ci dovrei stare attento però il gioco non me l'ha detto ecco quindi forse la parte leggermente più carente di questo libro game qui secondo me sono alcuni non tutti alcuni indovinelli che non sono tanto narrati bene detto sinceramente ti ci trovi lì spiazzato davanti e fai ma io non ho segnato nulla sulla scheda cioè non me l'ha detto il gioco sarebbe segnato e ci siamo rimasti un po' però l'abbiamo risolto e siamo andati avanti quindi è veramente un titolo spettacolare è un libro game narrato da paura poi ovviamente la recensione di questi che sono fantasy ve la farò più avanti narrato da paura ricco zeppo di dettagli scritto ragazzi benissimo e poi bello cicciotto come pagine perché si parla addirittura di 500 paragrafi quindi un romanzo poi è bellino che il vostro personaggio ha un palmare una specie di palmarino piccolino che si porta al braccio e ricorda anche un po' il coso il Pip-Boy di Fallout ha un database online che si chiama Vesnet ed è bellino che quando lo volete andare a riutilizzare nel gioco andate nelle ultime pagine e lui praticamente vi dice le varie cose che ovviamente ha un database online che si chiama Vesnet e andando in fondo nelle ultime pagine trovate tutti i termini che potete trovare nel corso dell'avventura e vi danno descrizione è bellino perché dovete tener conto del vostro equipaggiamento e addirittura il gioco vi dà una stanza personale dove potete lasciare le vostre cose la vostra cassa perché per quanto voi magari siete andati avanti nell'avventura ci saranno a volte possibilità e vivi narrativi per tornare alla base direttamente o tornare in quella cassa dove voi avete lasciato la vostra roba e praticamente segnandoci una lettera con la C ad esempio che vorrebbe dire cassa accanto agli oggetti che avete lasciato nella cassa perché ne potete portare solo 10 addosso magari per non perderli quando tornerete lì potete mettere altra roba nella cassa e tirarne fuori altra quindi la componente ludica e la componente divertimento e la componente che lo va a fondere un po' con un videogioco è forte io veramente qui hanno fatto la magia come appunto Joe Deaver con Lupo Solitario io leggendo questi romanzi non solo torno indieta agli anni 80-90 però leggendo questi libri game mi sembra di essere un videogioco cioè vi giuro a parte che sto leggendo però anche nei giochi si legge perché è pieno di zepi di dialoghi di iscrizioni cioè The Witcher è più leggere che non combattere quindi io The Witcher il videogioco di Witcher 3 lo considero un libro game piuttosto che un gioco d'azione o d'avventura e mi ci fanno callare talmente tanto che inizio a vedere le immagini davanti a me mi sembra di essere veramente in un videogioco mi sembra di aver agganciato il pad della play ed averci giocato più che da velo letto ed è fatto veramente benissimo se le devo dare un voto a Vesta Shutdown assolutamente le do un 8 su 10 le ho abbassato il voto di 1 le avrei dato volentieri 9 su 10 perché per me rasenta la perfezione veramente è fatto da paura sto iniziando a leggere quelli fantasy che sono belli a pari merito però se devo essere sincero questo forse è leggermente una marcia in più però siamo allo stesso livello se gli ho dato un voto in meno perché a volte secondo me ora ci sta ragazzi non dico che sia un errore del libro può darsi che sono io duro veramente me le piene verdi mi si dice a Livorno però ci sono delle cose che perlomeno quello sono sicuro erano narrate male cioè se ti all'inizio nell'introduzione del gioco mi dici guarda occhio quando vedi una parola sottolineata segnala sul foglio io subito appena la vedo segno anche se fosse una cavolata una parola come ciao io lo segno perché era sottolineato soprattutto se ci sono indovinelli da risolvere andandola giù in fondo io faccio ok ho trovato questo indovinello che ora poi vi dicono Isabella trovo questo indovinello non mi sono segnato niente ma perché non me l'ha detto il gioco e se che non sono riuscito a risolverlo a un certo punto ho detto sai che c'è vabbè ciao nel senso perché il gioco mi ha dato opzione quindi ho detto vabbè mi salvo ciao chi se ne frega me ne vado torno sui miei passi tornato sui miei passi leggo un altro paio di pagine mi manda il paragrafo dopo vado a leggere il paragrafo sei morto cioè quindi ero bloccato lo dovevo risolvere per forza ma come lo risolvo se non ci ho dati tornando però andate a leggenda e tutto effettivamente la soluzione c'era però non mi aveva mai 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 detto di sottolineare quelle cose e mi sono trovato in un problema però comunque 8 su 10 meritatissime ragazzi ringrazio ancora una volta l'Aristea per averci offerto queste copie per la recensione ovviamente copie che recenseremo a breve comunque subito dopo farò questa questi due che sono il marchio e la megera e spero che questa collaborazione possa durare grazie veramente di cuore quindi ragazzi in descrizione trovate il link dove acquistarlo fanatici dei libri game prendetelo assolutamente oppure ragazzi o persone adulti comunque che si avvicinano per la prima volta a titoli del genere io vi consiglio vi do un consiglio solo ma anche perché questi non l'ho letto partite subito da questo perché è veramente spettacolare e se come me siete fanatici sfegatati e spudorati di The Expanse questo vi galberà due volte di più quindi è veramente bellissimo e ancora una volta grazie e poi trovate in descrizione tutti quanti i nostri social link ovviamente e quant'altro ciao ragazzi alla prossima grazie a tutti